come riuscire a bere più acqua nel corso della giornata è una domanda gettonatissima perché in tanti tantissimi fanno fatica ad arrivare ad un introito di idratazione ottimale spesso non si sa nemmeno quanta idratazione ogni corpo richiede diciamo che c'è un calcolo medico che è 30 ml per chilocorporeo quindi in sintesi una persona che pesa 60 chili deve moltiplicare per 30 quei 60 e avrà i millilitri che avrà di cui necessita quindi sarebbero un litro e 800 solitamente invece se ne beve dal mezzo litro forse al litro per quando per quando siamo molto molto assetati per arrivare a un introito ideale bisogna agli inizi rieducare il nostro corpo all'idratazione spesso noi non beviamo abbastanza e l'unica sintomatologia che noi correggiamo una scarsa idratazione è la sete quando invece la sete è veramente l'ultimo l'ultima richiesta d'aiuto l'ultima richiesta di idratazione che ci dice il corpo quando ormai il bisogno è diventato una necessità primaria si attua infatti la sete dopo 40 45 minuti dalla richiesta effettiva del nostro corpo di idratazione non correggiamo alla scarsa idratazione tantissime sintomatologie che possono essere facilmente riconducibili a questa carenza mal di testa problemi gastrointestinali dolori ossei dolori articolari dolori muscolari cali dell'attenzione ci sono tantissime patologie correlate a una scarsa idratazione un bellissimo libro di un dottore iraniano che spero di pronunciare bene si chiama fereidon batman hedigi si chiama il tuo corpo implora acqua e lì spiega come nel suo mastodontico lavoro tra l'altro in posizioni veramente precarie perché ha lavorato in guerra in mezzo alla guerra dava come unico antidoto perché era anche l'unica cosa con la quale poteva curare le persone va semplicemente dei bicchieri d'acqua e vedeva che dando quest'acqua a questi pazienti i pazienti piano piano miglioravano dava dell'acqua con un certo criterio e loro con un certo criterio rispondevano si può dire che alla base di una scarsa idratazione c'è più o meno un range di malattie o disturbi che possono essere veramente poliedrici può essere correlato a qualsiasi patologia la scarsa idratazione e quindi è fondamentale bere abbastanza anche perché bere attiva bere acqua attiva tutto il sistema metabolico attiva il nostro sistema endocrino attiva la nostra digestione e attiva l'assorbimento dei nutrienti dagli alimenti dai quali ci nutriamo il valore dell'acqua nel nostro organismo che è 70 per cento d'acqua a livello di peso ma è a circa il 99 per cento d'acqua a livello di quantità molecolare già da queste cifre possiamo capire quanto l'acqua sia importante in un'alimentazione crudista prevalentemente idratante è richiesta un pochino meno acqua nell'alimentazione prevalentemente cotta perché nell'alimentazione crudista c'è un fattore di idratazione molto maggiore perché esistono cibi idratanti e cibi disidratanti i cibi idratanti sono tutti quegli alimenti che contengono ingenti quantità di acqua e anche di fibra nel caso della frutta verdura i cibi disidratanti sono quelli che non solo non arrecano acqua al nostro corpo ma sono quei cibi che prendono acqua dal nostro corpo e quindi ci creano un gap un deficit di idratazione mentre quelli crudi non vanno ad arrecare danni tra virgolette all'idratazione nostra del nostro corpo quelli disidratanti arrecano danni eccome gli alimenti disidratanti principali sono tutti quelli a base di zuccheri raffinati raffinazione e a grandi quantità di sale anche soprattutto i soft drinks e tutti diciamo le carrellate di bevande gassate e zuccherate che possiamo trovare al supermercato ad alta quantità di teina e caffeina che sono dei drenanti e dei diuretici e quindi creano ulteriore disidratazione nel nostro corpo noi magari pensiamo di bere un litro di acqua perché noi pensiamo che magari nel tè zuccherato ci sia tantissima acqua in realtà non facciamo altro che richiedere ancora più acqua di quello che abbiamo assunto tramite quel tè e quindi si entra in un circolo vizioso bisognerebbe integrare già di base un'alimentazione ad alto contenuto idratante ma supportarla anche con un'idratazione dal punto di vista di acqua pura spesso non si beve abbastanza acqua perché è insapore perché non siamo attratti attirati nel berla e bisogna semplicemente rieducare il nostro corpo al richiedere quest'acqua e possiamo rieducarlo anche in maniera molto piacevole ho scritto un libro tutto dedicato all'acqua e alle acque aromatizzate e vi voglio accennare cosa sono le acque aromatizzate anche in questo video non sono altro che acque insaporite con ingredienti altamente idratanti come può essere la frutta la verdura i superfood certi tipi di spezie uniti alchemicamente a seconda del gusto e delle proprietà le acque aromatizzate quindi sapranno di quel frutto di quella verdura di quella spezia di quel superfood che abbiamo infuso in quest'acqua e quindi sarà davvero molto molto golosa e noi saremo portati a bere sicuramente più acqua in questa maniera per fare un'acqua aromatizzata in breve ci servirà un frutto una verdura e a scelta un superfood una spezia o un'erba aromatica tritandole insieme o schiacciandole bene con una forchetta le possiamo posizionare dentro una caraffa una brocca in vetro riempirla con acqua fresca lasciare in infusione per circa 3-4 ore in frigorifero quando è estate ma anche fuori casa quando è inverno si può preparare benissimo anche la sera per la mattina dopo e una volta che è stata infusa questi alimenti che abbiamo immerso nell'acqua possiamo semplicemente scolare con un colino l'acqua e assappolarcela per tutto l'arco della giornata quell'acqua a seconda degli ingredienti che sceglieremo sarà risonante con le nostre esigenze e con la stagionalità la stagionalità la stagionalità la stagionalità la stagionalità la stagionalità